Dottore, quale è l'importanza di questo corso che voi oggi svolgete a Schaac? Allora, nel nostro ospedale noi arriviamo dall'IRCS San Camillo di Venezia. Abbiamo un'interessante esperienza che riguarda il lavoro in team tra il fisioterapista respiratorio e la logopedista. Questa gestione multidisciplinare, soprattutto nei pazienti con insufficienza respiratoria e spesso volentieri è abbinata a problemi di disfagia e di deglutizione e consente una gestione ottimale, soprattutto in un ambito riabilitativo, dando la possibilità a questi pazienti che hanno avuto spesso degli eventi traumatici, acuti, anche gravi, di riacquisire le migliori competenze possibili sul versante logopedico della deglutizione e di risolvere in maniera ottimale i problemi di insufficienza respiratoria. Il team, in questo caso, multidisciplinare, è indispensabile e l'organizzazione del team è molto importante. Dottoressa, voi avete trovato il massimo dell'attenzione, ma anche della qualità, presso la sede di Schaac e di Istituto Maggeri? Certamente sì, abbiamo trovato un'ottima ospitalità, oltretutto, da parte dell'Istituto Maggeri. Abbiamo anche notato che molti colleghi logopedisti e terapisti e anche infermieri, oltre all'equip medica, hanno già una buona formazione e soprattutto, anche in modo un pochino, diciamo così, una sorta di piccola invidia, abbiamo notato che hanno anche ottime attrezzature a disposizione del paziente che già in parte utilizzano e noi cercheremo di dare la nostra formazione per aiutarli proprio a ottimizzare l'utilizzazione di queste apparecchiature. Angela De Paolo, una qualificazione sempre maggiore del personale è uno tra gli obiettivi principali di Maggeri? Sì, certamente, perché la formazione è fondamentale. Noi lavoriamo con una certa intensità, però serve sempre per la sicurezza del paziente avere delle procedure che siano corrette e che siano sempre migliorate e in linea con quelle che sono le possibilità di migliorare la condizione del paziente stesso che in questo momento noi parliamo del paziente che presenta canula da tracheotomia e che quindi ha delle difficoltà, delle funzioni per quanto riguarda quella fonatoria, quella respiratoria e quella deglutitoria. Quindi un paziente complesso che necessita sicuramente delle varie competenze ma di una formazione fondamentale.